Telesio Interlandi, direttore della difesa della razza, un fascista salvato dall'incontro con un antifascista. Nel momento in cui l'odio in Italia era acutissimo, perché è evidente che la guerra, la fine del fascismo, a seguito anche delle leggi razziali, aveva determinato tutte queste cose nel nostro paese, una situazione di intolleranza totale. Interlandi è stato usato da Mussolini e lui ha servito Mussolini per appoggiare quella odiosa campagna a favore delle leggi razziali volute dal nazismo, imposte dal fascismo e promulgate da Vittorio Emanuele III. Nella fase più acuta della controopposizione c'era chi non perdeva il senso della ragione. L'episodio di Interlandi, che viene condannato a morte, viene preso dai partigiani, portato nel carcere di Brescia e viene assistito e difeso da un avvocato antifascista, socialista, che era uscito da qualche giorno dalle prigioni della Repubblica di Salò. Questo fatto ha colpito Sciascia, ha colpito pure me, perché abbiamo visto che una persona dotata di cultura ma dotata di grande umanità ha saputo trovare nel momento dell'odio più acuto la forza di reagire diversamente da come tutti in quel momento agivano. Ha cercato verso una persona che aveva delle idee sbagliate ma che non aveva commesso alcun crimine perché aveva messo a disposizione la sua penna al servizio di una causa sbagliata. Una persona che sosteneva idee sbagliate non andava passata per le armi.